Sono ipotizzabili sanzioni per i tre club? No, assolutamente perché non si può sanzionare un'idea. Ad oggi c'è un'idea da parte di alcuni soggetti che non si è comunque concretizzata. Poi è chiaro nel momento in cui si dovessero ipotizzare ipotesi, o comunque idee o progetti che sono in contrasto con le norme statutarie e ci sono gli organi di giustizia che attualmente faranno la loro valutazione. Noi ci siamo nel campo delle valutazioni politiche, che è quello che a me interessa in modo particolare. Sottolineo ancora una volta, non posso e non sono, vi garantisco, distratto da quelli che sono i problemi del calcio. I problemi ci sono e li dobbiamo affrontare tutti insieme.